prosegue la rubrica fai le tue domande a puntini puntini al posto dei puntini puntini oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il centrocampista azzurro davide drashek ciao davide ciao buonasera a tutti come al solito la hanno selezionato per te una decina di domande parto a raffica pronti via iniziamo con antonio buonamici dice ciao davide lo scorso anno giocavi molto di più quest'anno sinora hai fatto poche apparizioni cosa speri nel prossimo futuro ma come ogni giocatore mi auguro di poter dare il mio contributo in maniera continua poi quando si scende in campo però è normale che nell'arco di una stagione ci sono dei momenti in cui si fatica un po di più a trovare spazio adesso sto affrontando proprio uno di questi momenti ma insomma mi auguro nel proseguo di giocare un pochettino di più senz'altro proseguiamo con luca che ti dice la tua seconda stagione qui a novara come ti trovi benissimo ho avuto subito un impatto molto positivo con la città con con i compagni con tutta la società mi mi trovo veramente molto bene sin dal primo giorno in cui sono qua sono arrivato qua e mi auguro di poterci restare lungo devo dire la verità rimanendo sempre in tema fabio chiede con quale compagno e più feeling ma un buon rapporto diciamo con tutti però se devo farti un nome ti dico giuseppe gemiti che anche mio compagno di stanza quando siamo in ritiro maurizio sassi dice ciao davide innanzitutto complimenti per la tua grande professionalità poi volevo chiederti di tutte le squadre che hai visto a parte il nuvara qual è quella che ti ha fatto più impressione sul campo beh ovviamente abbiamo già incontrato tutte le nostre avversarie nel giorno dell'andata se devo farti un nome ti dico l'atalanta sono me la squadra più forte in un caso sta lì sopra momento d'amore perché non può mancare la la tifosa che chiede in questo caso Antonella se sei sposato e come ti sembra insomma la nostra la nostra città non sono sposato però sono fidanzato e convivo ormai da cinque anni con il legna la mia ragazza e che comunque che vive qui con me insomma ci troviamo bene entrambi quale lei lavora 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 qui in ovara quindi si è inserita anche lei molto bene nella città quindi Antonella ti è andata male anche sto giro Marco Daruna dice come come vivi no questa stagione con uno stadio sempre così gremito è una bella soddisfazione perché sentire i ragazzi che sono qui magari da più anni che ci dicevano che insomma fino a qualche anno fa lo stadio era semi deserto e adesso insomma vedere lo stadio pieno è quasi una consuetudine è un motivo di orgoglio perché vuol dire che abbiamo abbiamo fatto qualcosa di importante che ha portato la gente ad avere un entusiasmo incredibile con alberto passiamo invece la tua crescita professionale perché chiede il tuo parere su tesser e a parte appunto attiglio tesser quale coce ti ha insegnato di più beh i risultati credo che parlino per il mister perché ha svolto un lavoro direi egregio da dall'anno scorso fino ad oggi siamo riusciti veramente ognuno di noi a esprimere il meglio delle proprie potenzialità quindi credo che questo sia il merito principale di un allenatore cioè riuscire a plasmare il gruppo che ha e a far rendere i suoi giocatori al meglio è un grosso merito suo questo distretta attualità la domanda di stefano da recetto che dice sabato arriva al varese per noi una partita molto sentita come vi state preparando ci regalerete un sabato da leoni me lo auguro perché è una partita molto sentita anche per noi perché insomma sentiamo questa sensazione insomma che per la gente è una partita particolare non è una partita come le altre come è stato ad esempio torino e in più perché abbiamo voglia di riscattare la partita dell'andata dove è stata una partita molto strana giocata in giornate diverse su un campo quasi impraticabile il primo tempo quindi abbiamo voglia di misurarci in una partita diciamo tra virgolette più normale e di dimostrare il nostro vero valore contro questa squadra chiudiamo con fabrizio che ti dice da buon friulano ti manca la tua terra e che cosa in particolar modo beh insomma diciamo che sono abituato a stare lontano dalla mia terra d'origine perché sono lasciato la mia terra quando avevo 14 anni che mi sono trasferito a vicenza quindi ormai ci ho fatto l'abitudine però è ovvio che lì vive la mia famiglia della cosa che che mi manca di più insomma quando posso la prima cosa che faccio lì raggiungo grazie davide in bocca al lupo queste le parole di davide derascia che naturalmente fa le tue domande a proseguire settimana prossima per raggiungere per scrivere al tuo tifoso al tuo calciatore preferito